Come puoi vedere sembra che Nvidia e G-Sync sia abilitato ma la sincronizzazione verticale e Nvidia e Reflex sono disattivati quindi in questo caso io ho attivato così il G-Sync sul mio monitor quindi per attivare così il G-Sync dobbiamo fare tutto all'esterno quindi tutto fuori dal gioco. Quindi facciamo ok, usciamo così dal gioco andiamo direttamente su Nvidia che ti ho lasciato in descrizione il pannello di controllo, tasto destro sopra, pannello di controllo Nvidia ed eccolo qua. Il pannello di controllo Nvidia vai su gestisci impostazioni 3D puoi attivarlo tramite qua quindi selezioni così l'applicazione su impostazioni globali oppure impostazioni programma, fai aggiungi, fai sfoglia e metti così l'applicazione di Counter Strike. Quindi Steam Maps, common, game, bin 64, 20cs2.exe oppure vai su impostare G-Sync, abilita per la modalità schermo intero, abilita G-Sync compatibilità G-Sync e metti la spunta anche qua sopra. Una volta fatto, una volta fatto, fai applica. Una volta impostato il G-Sync su Counter Strike, avviamo così il gioco, quindi applico così le modifiche ed eccolo qua. Passare la tenza Nvidia Reflex, abilitato, più Boost. Per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video. La compatibilità G-Sync è attiva su Counter Strike 2, quindi grazie a tutti per questa visione e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial. Ciao! Grazie per la visione! Grazie.